La storia della Trapani cestistica è tra le più antiche di Sicilia, ma dal 1981 assume un valore diverso. Quell'anno infatti l'ex Edera, ribattezzato da Palacanestro Trapani, viene rilevata dal primario di radiologia Vincenzo Garraffa. Dalla serie C2 la nuova società arriva in due anni in serie B, rimane poi in B di eccellenza e infine approda in serie A1 nel 1991. E' la prima squadra siciliana, maschile, a farlo nell'era moderna, dopo le fugaci esperienze attorno alla guerra di Palermo e Catania. Le immagini che vediamo sono della partita decisiva dei play-out contro Montecatini, davanti a un Palacanato a Stracolmo, vinta per 95-80 il 12 maggio 1991. Di quella squadra facevano parte Johnson, Hurt, Zucchi, Cassì, Morrone, Castellazzi, Mannella, Lott, Piazza e Martin. L'allenatore era cacco benvenuti. I Grata mantennero la serie A soltanto un anno e sarebbero poi resistiti in serie 2 fino al 1996.